Noi qui vediamo quello che è successo con la Bressi, cerchiamo sempre di dare gli strumenti per vivere meglio e capire come stanno le cose, che è sempre più difficile perché le fake news abbondano e purtroppo dobbiamo fare sempre i conti col dottor Google, che non va bene. E allora diamo il buongiorno al nostro episodio di Queen Studio, abbiamo tante pilole, piloline e pilolette. Buongiorno ad Antonio Mistretta, servizio comunicazione scientifica dell'Istituto Superiore di Sanità e dagli studi RAI di Milano. Il piacere, il privilegio di avere in collegamento con noi Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri. Grazie, grazie veramente di cuore. È un onore. Mistretta, abbiamo un piccolo disturbo, non vogliamo chiamare il medico, diamo uno sguardo a dottor Google. Come fare a capire che non si tratta di una fake news? Buongiorno, innanzitutto la prima cosa da dire è che il dottor Google non va quasi mai consultato, anzi non andrebbe mai consultato perché capita sempre più spesso di incappare in siti poco attendibili. La prima cosa quindi da consigliare sarebbe quella di rivolgersi al medico di base e poi andare eventualmente da uno specialista. Ci sono dei siti specialistici, dei siti istituzionali, ad esempio l'Istituto Superiore di Sanità ne ha uno che si chiama IS Salute. Questo sito è un sito che divulga la conoscenza scientifica in termini accessibili e quindi comprensibili dalla maggior parte delle persone. Perché un grande problema che noi riscontriamo è la capacità di decodificare quello che è scritto nei siti. E poi spesso siti così poco attendibili danno informazioni assolutamente fasulle che possono risultare dannose. Quindi solo siti istituzionali, io raccomando lavorando per questa, ma la qualità è garantita. Professor Garattini, a proposito di fake news e antibiotici, si dice che con gli antibiotici io ci curo tutto. Vero? Falso? Falso, naturalmente, perché non è che si può curare tutto con gli antibiotici. Esistono gli antibiotici ad ampio spetro che quindi coprono tanti batteri, ma poi in molti casi bisogna identificare qual è la causa e usare l'antibiotico più adeguato. Purtroppo questa mentalità dell'uso degli antibiotici come soluzione generale ci ha posto come paese fra coloro che in Europa utilizzano più antibiotici. E li utilizzano male, cioè li utilizzano anche per situazioni in cui gli antibiotici non hanno ragione di essere impiegati, perché gli antibiotici per esempio non agiscono sui virus, agiscono solo sui batteri. E poi abbiamo la caratteristica delle confezioni. Spesso le confezioni non sono adeguate, nel senso che rimangono molte pillole rispetto a quelle utilizzate. E questa è un'altra causa di male utilizzazione, perché la mamma, con tutte le buone intenzioni del mondo, però appena il bambino ha un po' di febbre, subito ha lì la riserva di capsule di antibiotici e somministra l'antibiotico. Questo naturalmente poi contribuisce molto a realizzare quella che è l'antibiotico resistenza. Cioè a forza di utilizzare antibiotici l'effetto non c'è più. E noi abbiamo purtroppo 10.000 morti all'anno dovuti ad antibiotico resistenza. Ancora, se dopo pochi giorni i sintomi non migliorano è meglio aumentare la dose, oppure appena i sintomi migliorano posso smettere di prendere l'antibiotico. Vero, falso, pericoloso? Anche questo è molto pericoloso, perché bisogna utilizzare il trattamento che è stato prescritto. E molto spesso il fatto che passi la febbre non vuol dire che il batterio se ne sia andato. Quindi è bene seguire le istruzioni e non agire di testa propria. Mistretta, antibiotici, e poi chiudiamo questo capitolo. Qualcuno dice che ci siano alcuni alimenti che cozzino con gli antibiotici, tipo le uova. Vero o falso? Falso, falso in generale. Soltanto i sulfamidici in realtà hanno dei problemi col consumo di uova, perché le uova rallentano poi l'assorbimento del sulfamidico. Quindi in generale assolutamente non c'è problema. Più vitamine prendo e meglio sto. Opinione diffusa che anche cedendo non ci siano danni. Vero o falso? E' falsissimo perché in realtà l'ipervitaminosi, cioè il consumo eccessivo di vitamine, dà problemi, così come dà la carenza di vitamine ovviamente. Ci sono ormai tanti integratori vitaminici che sono sempre più consumati. Bisogna fare molta attenzione, sicuramente non eccedere. Sicuramente anche qui il fai da te è assolutamente sconsigliato. E considerate anche che questa ipervitaminosi non si riscontra praticamente mai con le vitamine che si assumono tramite gli alimenti. Ma quindi la responsabilità è sempre dovuta a un consumo eccessivo di integratori vitaminici. Professor Garattini, acquistare farmaci online è sempre legale e sicuro. Vero o falso? E' falso, cioè non bisogna mai comprare farmaci online, se non dalle farmacie che sono autorizzate dal Ministero della Salute. Ma bisogna stare molto attenti perché spesso poi si ritrovano farmaci che non contengono nulla o che magari non contengono il principio attivo che è dichiarato. Quindi grande attenzione e spesso questo tipo di attività si svolge perché magari i prezzi sono più bassi. Stiamo molto attenti e i farmaci si comperano in farmacia. I farmaci generici sono meno efficaci degli originali. Vero o falso? Questo è falso perché i farmaci generici non è che possono essere messi in commercio come tali, devono sottostare a determinate regole. Per esempio devono dimostrare che la concentrazione che esiste nel sangue è equivalente a quella che si ritrova con il farmaco originale. Quindi se la concentrazione è equivalente è assolutamente difficile pensare che gli effetti siano differenti. Quindi assolutamente non c'è nessuna ragione per discriminare i farmaci generici. Anche perché il costo è di meno. Da noi purtroppo il problema è che il termine generico è vissuto come un termine negativo. Quindi siamo ancora a circa il 40% di utilizzo di questi farmaci che chiameremo meglio equivalenti. Ma per esempio in Francia, in Germania, in Inghilterra l'utilizzo è vicino all'80%. Oltretutto con i farmaci equivalenti si risparmiano soldi. Grazie per aver fatto chiarezza su questo aspetto, soprattutto in un momento in cui i soldi non è che ne girino tanti. Grazie professor Garattini. Io una domanda a Mistretta gliela devo fare legata a quello che è un po' la notizia di questi ultimi tempi. E cioè ci sarebbe un farmaco per il diabete, venduto come cura il diabete, che viene usato invece per dimagrire. È vero o falso? Cosa sta succedendo? Sta succedendo innanzitutto un problema serio che riguarda i pazienti diabetici. Questo farmaco, la simaglutide, viene adoperato insieme ad altre, cioè la dieta e l'attività fisica, per il controllo della malattia in caso di diabete di tipo 2. Cosa sta succedendo? Purtroppo che questa notizia che è serpeggiata nella rete sta causando anche a causa di esempi clamorosi di personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. questo sta causando una carenza di questo farmaco che invece è fondamentale per chi è in cura per il diabete. Quindi prima cosa. Seconda cosa, in Italia ancora l'AIFA, l'organismo che si occupa di approvare i farmaci, non ha dato il via libera, così come invece è accaduto negli Stati Uniti, contro l'obesità. E non è stato del tutto studiato gli effetti di questo farmaco su persone che non sono pazienti. Quindi lei mi sta dicendo che alla lunga chi usa queste cose per dimagrire impropriamente non avendo il diabete potrebbe avere delle conseguenze e il fisico presenterebbe... No, non soltanto potrebbe avere delle conseguenze. La prima conseguenza che potrebbe avere in realtà è quella di avere, poi nel momento in cui sospende anche un ritorno immediato del peso e non puoi prendere a vita questo farmaco. E comunque non è etico toglierli... Non è etico, non è studiato e assolutamente va sottolineato che poi è diverso l'obesità dal perdere qualche chilo. Certo. Interessante questo argomento. Tu come mamma sei ansiogena o no? Devo dire un pochino non ansiogena perché poi non lo voglio trasferire a Giulia. E sei anche smemorina? No. No, perché sai che c'è una cosa... No, quello proprio no. Quando uno scorda... Ma è come attrice la memoria. No, perché quando uno scorda di prendere un medicinale, dice vabbè sai che faccio? Lo prendo doppio. Professor Garattini... Un giorno che non l'hai preso, poi il giorno dopo lo prendi doppio. Si fa o non si fa? Vero o falso? Non si deve fare assolutamente. Perché se non è doppia dose. Perché una dose doppia può dare effetti collaterali molto diversi dalla dose che invece è consigliata e che è stata studiata in modo adeguato. Quindi nel caso in cui capiti è utile sentire il consiglio del medico, ma se si tratta dei trattamenti cronici probabilmente non cambia granché anche se ci si dimentica una giornata. Eh, infatti le pasticchie per la pressione me la sono dimenticata, vada avanti ormai con la scia di quello che c'è stato. Sì, certamente. Professor Garattini, è stato veramente un gran privilegio averla qui con noi. Grazie. Grazie, grazie a voi. Ricordiamo il presidente dell'istituto Mario Negri. Mi ha fatto molto piacere rivederla e grazie Antonio Mistretta del servizio di comunicazione scientifica Istituto Superiore di Sanità. Grazie a voi.